Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca, in arte Friends Are My Power 94, e sto facendo questo video per condividere con tutti voi quello che voglio sia il futuro, il cammino da percorrere per ampliare i contenuti del mio canale e fare in modo di diventare in qualche modo il content creator che ho sempre voluto essere. Inizio presentandomi, come vedrete dal nome del video, si chiama Friends Are My Power 2.0 e sta a significare appunto il percorso di crescita che intendo intraprendere per quanto riguarda il mio canale. Per quelli di voi che non mi conoscono, io appunto mi chiamo Luca, sono un fan spiegatato dei videogiochi come molti di voi e molto tempo fa ho preso da questa passione, ho deciso di aprire un canale per condividerla quanto più possibile con altri utenti come me che mangiano videogiochi e che amano così industria. Il mio lavoro più grande sicuramente e il motivo per cui sono conosciuto qui sul web è sostanzialmente la traduzione di un videogioco per Nintendo Wii uscito solo in Giappone che è Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Ho iniziato appunto, aprendo il mio canale per fare un po' di storia, nel lontano 2011 ho iniziato a pubblicare dei video del mio progetto di traduzione del primo gioco di questa serie che era disponibile solo sul mercato giapponese e io avevo intenzione di tradurre quanto più possibile in italiano. Questo progetto è piaciuto abbastanza e l'ho portato avanti con il capitolo seguente fino a quest'anno. Ho rilasciato una prima beta così che tutti possano effettivamente giocarci e avere il frutto del mio lavoro. Detto questo, il motivo principale per cui in questo momento non sto appunto più pubblicando aggiornamenti su quel progetto è perché ho deciso di ristrutturare il mio canale. Questo lo sto dicendo sia ai vecchi utenti che ai nuovi, sia a chi per qualche motivo mi seguiva già e vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato e sia per chi magari molti di voi non mi conoscono e si stanno approcciando per la prima volta al mio canale guardando questo video. In sostanza quello che voglio proporre sono dei video più studiati, più profondi e quindi voglio puntare molto più sulla qualità rispetto alla quantità. In questo periodo ho pubblicato per mesi costantemente continui aggiornamenti sul mio progetto di traduzione e ho sperimentato anche molto perché la voglia di aggiungere contenuti, di espandere il mio canale era grande, era grande già molti anni fa. In qualche modo però mi sentivo incatenato dal dover continuare a pubblicare il contenuto che mi aveva portato dovero e quindi appunto il contenuto poi che è quello realmente seguito del mio canale perché io sono conosciuto principalmente per quello. E quindi ho sperimentato molto in questi mesi, chi appunto già mi segue ha visto che ho provato diversi altri progetti e questo faceva tutto parte del mio percorso di autoconvincimento al fatto che non voglio sentirmi incatenato a quell'unico progetto, a quell'unico brand che effettivamente però risulta quello che poi viene visto effettivamente nel mio canale rispetto a tutto il resto che posso pubblicare. e adesso ho deciso di diventare il content creator che ho sempre voluto essere. Io quando ho aperto il mio canale era per condividere la mia passione e la mia esperienza in questo settore. Io sono anni e anni e anni che mangio questa vita, che gioco ai videogiochi, ma più che un gamer mi posso definire appunto un content creator, nel senso che io ho una passione per l'industria videoludica in tutto quello che riguarda, quindi in tutto quello che c'è dietro al videogioco ancora più del videogioco in sé inteso come il prodotto finale che poi andiamo a giocare. Infatti quando ho aperto il mio canale ho subito pubblicato solo video che fossero contenuti originali appunto miei progetti, software su quello che è quest'industria per dare la mia parte e condividere con tutti voi la mia esperienza in qualche modo. Nei vari anni questo è andato un po' a scemare, ho perso un attimo il focus di quello che ho sempre voluto essere il mio modo di trasmettere, la mia passione, la mia esperienza e quindi non mi sono mai esposto più di tanto in prima persona come sto facendo adesso e come ho cercato di fare negli ultimi tempi riguardo al progetto appunto di traduzione del gioco e adesso invece voglio proprio cambiare fronte, voglio puntare appunto come già accennato sulla qualità piuttosto che la quantità e questo ovviamente richiederà del tempo sia per la produzione, per lo studio, per la regia dei video ma anche poi per essere effettivamente apprezzato perché nessuno mi conosce in questo momento per la mia esperienza e le mie capacità all'interno del panorama videoludico quanto più appunto per il prodotto che stavo sviluppando, che stavo traducendo che è in Azuma Eleven Ghost Strikers 2013 io però voglio tornare agli albori, al motivo vero che mi spinge a continuare ad essere fedele, appassionato più che mai a quest'industria da anni e anni che continua ancora a farmi sognare e quindi quello che voglio è condividere con voi dei contenuti molto più tecnici molto più critici per essere in qualche modo in contatto diretto con voi aprire discussioni, poter fare analisi tecniche anche di giochi, di personaggi di cose, ma anche di retroscena dello sviluppo che è un ambiente a cui io sono molto affezionato e a cui mi piace parlare sempre con molto piacere anche con gli amici e conoscenti io in qualche modo nella vita lavorativa e privata cerco comunque di appassionare anche le altre persone di fargli capire perché amo quest'industria più di ogni altra cosa per fargli capire che non è uno svago, non è solo un passatempo il giocare, è proprio un'esperienza è proprio un fare tue determinate cose vivere interattivamente delle esperienze e quindi è questo che cerco sempre di far passare quando parlo con passione di questo mondo e quindi è un po' il percorso che vorrei intraprendere anche per il mio canale quindi sicuramente ci vorrà del tempo sia per produrre i video che soprattutto, ma soprattutto per farli apprezzare perché con gli esperimenti che ho fatto non è niente di male a dirlo ma ovviamente non ho avuto il riscontro che aspettavo che speravo più che aspettavo nel senso che nessuno mi conosce per questo lato sono più un produttore adesso che si rivolge ai consumatori piuttosto che una figura vista come un esperto del settore una persona di cui fidarsi, con cui poter parlare e condividere opinioni a tutto tondo su quest'industria dagli eventi, ai giochi, ai personaggi, al gameplay, alle dinamiche, gli attori tutto quello che sta dietro al mondo alla musica che sta nei videogiochi tutte cose che mi appassionano e di cui sono molto esperto e quindi mi piacerebbe condividere con voi ovviamente se anche voi lo vorrete quindi volevo solo dire ai vecchi e ai nuovi che io ci sono ancora ai vecchi che il progetto di traduzione di Nazuma Eleven Ghost Strikers non è finito che ci sto ancora lavorando però anche in quel caso ho bisogno di prendermi i miei dovuti tempi nel senso di appunto sono sempre da solo a lavorare a questo mastodontico progetto e ho bisogno di staccare anche la testa di non pensare solo a quello e non sentirmi incatenato a dover continuare a fare aggiornamenti solo su quello perché io sono molto altro, sono molto di più e vorrei poter condividere questa cosa con voi quindi ai vecchi e ai nuovi questo è Friends are my power 94 2.0 e spero che vorrete seguirmi, supportarmi e indicarmi anche voi una via da seguire quello che secondo voi possa aver senso sia in ambito videogiochi ma anche in ambito anime perché molto spesso prendo appunto Inazuma Eleven come caposaldo nasce come videogioco io l'ho conosciuto e lo apprezzo come videogioco però è anche un anime moltissimi lo conoscono prima come anime che come videogioco e quindi c'è spesso questo questo connubio fra il videogioco e l'anime e quindi vorrei parlare con voi anche un po' di questa tematica qui quindi anche di quello che può essere il videogioco che nasce da un anime o il contrario come Inazuma Eleven quindi chiedo ancora a voi l'ho già chiesto in community che contenuti vi piacerebbe che portassi sul canale ma intesi anche appunto in termini di discussione cosa vorreste sapere io voglio cercare di portare la mia esperienza e la mia conoscenza a tutti voi per aprire discussioni e poter anche appunto scambiarci i punti di vista su quello che è questo mondo che amiamo nello stesso modo quindi in realtà era tutto qui ho voluto fare questo video per trasmettere un po' quella che è la mia passione e soprattutto quella che è la mia intenzione questa è una dichiarazione di intenti è un messaggio d'amore che ho verso quest'industria e verso anche la community voglio realmente portare del mio qualcosa di mio di originale verso di voi per farvi anche conoscere le motivazioni che mi spingono a continuare a investire in questo settore a magari farvi conoscere delle opere attraverso una luce nuova quindi non attraverso dei normali gameplay o delle normali discussioni e basta che ci saranno che voglio che ci siano soprattutto le discussioni ma vorrei magari riuscire ad impacchettare un'esperienza che un utente possa seguire da casa attraverso dei video e che gli possa dare una conoscenza quanto più completa del medium in tutto il suo insieme quindi di un gioco per esempio di esplorare la lore di esplorare le tematiche non solo la storia e il gameplay ma di esplorare un po' nel mentre lo si vive anche tutto quello che ci sta intorno e anche quindi i retroscena che hanno portato allo studio le ispirazioni lo sviluppo e poi il prodotto finito e del perché è stato fatto in un certo modo quindi questo è un po' una in linea generale i contenuti che mi piacerebbe portare sul canale ovviamente sono contenuti molto complessi da pensare da sviluppare e da produrre quindi non posso promettere una cadenza una cadenza fissa come quella che poteva essere un piccolo video di aggiornamento di Inazuma ma sono convinto che la qualità conti molto più della quantità ed è per questo che già da settimana scorsa non sto più pubblicando perché non voglio sentirmi obbligato per avere solo qualche views in più a continuare a pubblicare se non ho realmente qualcosa di mio che mi appassiona che voglio condividere con voi da effettivamente da pubblicare di cui essere fiero perché l'ho pensata l'ho sviluppata l'ho prodotta e infine l'ho pubblicata come potete immaginare non è una cosa facile non è un percorso semplice ma io ho deciso di intraprenderlo e vorrei davvero il vostro supporto il vostro sostegno e le vostre idee anche cosa vi piacerebbe vedere sia come opere su cosa vorreste delle informazioni più tecniche o dei retroscena o anche qualche spiegazione proprio più dettagliata solo anche della trama del gioco cioè di cosa vorreste parlare cosa vi piacerebbe che diventasse una serie un ritrovo un modo per condividere insieme tutto quello che è la passione per quest'industria basta io ho finito vi ringrazio intanto per aver guardato questo video se siete arrivati fino a qui vuol dire che in qualche modo avete avuto piacere ad ascoltarmi che siete arrivati fino in fondo a questo a questo lungo video in cui ho ho fatto questo grosso monologo per per dirvi un po' darvi in qualche in qualche modo una una linea di quello di quello che voglio che sia il mio canale come voglio come voglio che cresca se siete nuovi spero di avervi fatto passare qual è la mia la mia passione immensa per quest'industria e il motivo per cui voglio continuare ad investirci anche molto più tempo e molte più energie senza essere sicuro poi di avere un riscontro e un ritorno in termini di visualizzazioni e spero che se voi come me siete appassionati di quest'industria vogliate sostenermi iscrivervi al canale condividere ma soprattutto farmi sapere cosa vorreste cosa vi piacerebbe che portasse una persona che si definisce esperta e abbastanza con una conoscenza molto ampia di questo medium di questa industria e che mi piacerebbe condividere con voi tanto quello che mi piace perché è importantissimo condividere condividere ciò che piace ma anche quello che voi vorreste sentire quindi vi chiedo di farvi sentire parlare per quanto potete e dirmi quello che vi piacerebbe quello che vi piacerebbe vedere io sto già iniziando con con un mio primo progetto personale che non vedo l'ora di portare sul canale per per vedere se possa piacere anche a voi non saranno ovviamente tutti i contenuti super studiati delle bibbie apocalittiche che richiederanno settimane di sviluppo e di produzione però voglio portare dei contenuti molto più studiati molto più tecnici e con molto più valore quindi sempre per privilegiare la qualità vi chiedo come al solito di farmi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto il video lasciate un like se volete condividete soprattutto iscrivetevi al canale perché presto spero potrò darvi buone news sull'inizio di questo nuovo percorso insieme ciao a tutti sono friends are my power 94 94